Una cattedra in psichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza all'Università del Michigan dove si occupa di diagnosi, intervento e sviluppo socio-cognitivo dell'autismo nelle primissime fasi di vita. A soli 43 anni Costanza Colombi vanta una carriera accademica invidiabile condita da diverse pubblicazioni scientifiche. Originaria di Ponte Nure, frequenta l'Izio Gioia, poi l'Università di Parma dove ottiene la laurea in psicologia prima di fare la scelta che cambia la vita, un dottorato di 5 anni al Mind Institute in California a fianco di Sally Rogers, Luminare degli studi sull'autismo. Costanza, ospite ieri della direttrice di Telelibertà Nicoletta Bracchi nell'ultima puntata di Nel Mirino, è un classico esempio di cervello in fuga e in America ha sviluppato un metodo di intervento all'avanguardia che si rivolge ai piccolissimi con l'apporto di diversi professionisti, ma la patria resta nel cuore. Spero ci possa essere per me un rientro in Italia, purtroppo quello che sono riuscita a fare negli Stati Uniti qui non sarei riuscita a farlo. Spesso quando facciamo magari queste formazioni in cui vedo un bambino per tre giorni con dei professionisti e lavorando tre giorni in modo intensivo con un bambino spesso iniziano a sviluppare le prime paroline. Che è successo, chissà che è emozione. Grazie a tutti. Grazie a tutti.